E' un piccolo polmone verde nel quartiere di Sant'Orso, tra l'altro a ridosso di un impianto sportivo, ora anche più facilmente raggiungibile dai residenti grazie alla nuova pista ciclopedonale. Ma nonostante una recente riqualificazione attraverso la creazione al suo interno di uno skate park, alcuni cittadini denunciano uno stato di incurie e degrado della struttura. Stiamo parlando del parchetto pubblico all'inizio di via Soncino, ma giardino o verde pubblico non deve far rima con cattiva educazione. Questo parco, inaugurato nel marzo del 2019, con 140.000 euro spesi di soldi pubblici, viene lasciato e abbandonato a se stesso. In curia viene utilizzato come sgambatoio da parte di padroni di cani incivili che non raccolgono quello che i loro cani fanno. Ci sono dei murales che testimoniano il fatto che comunque l'amministrazione comunale è totalmente assente. È stato sì episodio negli anni passati di atti di vandalismo, i residenti si erano lamentati che c'erano anche dei gruppi di ragazzini che poi si ritrovavano la notte. L'amministrazione comunale ha cercato di dare una risposta in un primo momento positiva e poi in realtà è stato abbandonato tutto a se stesso. Vogliamo che questo parco venga utilizzato magari da un'associazione, da un'attività sportiva che continui nel tempo e non solamente per un periodo. È stato utilizzato per lo skate kit series ma a ottobre è stato l'ultimo appuntamento e poi da lì nulla più. Noi vogliamo che questo parco per i soldi che sono stati spesi e per quello che potrebbe veramente essere per gli abitanti di Sant'Orso che ricordiamo che è uno dei quartieri più popolosi di Fano e venga utilizzato per quello che è. Il comune di Fano già a ottobre del 2019 attraverso fondi ministeriali ha incrementato i controlli sulla corretta detenzione dei cani e degli errati comportamenti dei loro possessori come appunto lasciare le deiezioni degli animali a terra o negli spazi verdi come appunto quello di Sant'Orso. Ma evidentemente il rapporto tra guardi e ladri è sbilanciato nonostante gli sforzi della polizia locale o delle guardie ambientali. I giochi sono rotti e quindi anche quelli non sono utilizzabili. Nei mesi passati spesso sono stato testimone anche di bambini che si sono fatti male perché ci sono dei giorni che qui ci sono 40-50 ragazzi che utilizzano il parco skate e qualcuno si è fatto anche male, sono state chiamate ambulanze. Io ripeto, fare una cosa così bella e poi non controllare, non fare qualcosa per tutti mi sembra inutile, sembra un inutile spreco di denaro e di possibilità per tutti.